gloria a Gesù alleluia vogliamo dire gloria a Dio con tutto il nostro cuore e vi voglio invitare a prendere la parola di Dio ancora in questa sera il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore lo troviamo nell'Evangelo di Matteo a capitolo 13 voglio leggere dal versetto 47 così dice la parola di Dio il regno dei cieli è anche simile a una rete che gettata in mare ha raccolto ogni sorta di pesci quando è piena e i pescatori la traggono a riva e postsi a sedere raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla così avverrà la fine dell'età presente verranno gli angeli toglieranno i malvagi di menzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco lì sarà il pianto e lo sridor dei denti avete capito tutte queste cose essi gli risposero sì fin qui la parola del Signore ecco in maniera meravigliosa Gesù spiega ancora queste grande verità cari fratelli amici che siete in ascolto in questa sera in questo testo che abbiamo letto adesso il Signore Gesù dopo aver parlato con molte parabole che qualcuna l'ha menzionata anche il fratello che mi ha preceduto il fratello Petrone ecco dopo aver istruito Gesù con la parabola del seminatore con la parabola delle zizzanie con la parabola del granello di senape del lievito la parabola del tesoro nascosto della perla di grande valore adesso in conclusione racconta questa parabola questa similitudine il Signore Gesù ci mette con questa similitudine ci mette in guardia dicendoci espressamente che a tempo stabilito quando la rete sarà piena ci sarà una cernita cari nel Signore una selezione ci sarà cari ascoltatori il Signore vuole che non sottovalutiamo il tempo in cui stiamo vivendo noi oggi ci troviamo nella fase conclusiva dei tempi e presto questa parola che noi abbiamo letto si adempirà sotto i nostri occhi cosa rappresenta questa parabola per noi il Signore Gesù dice che il Regno dei Cieli è anche simile a una rete che è gettata in mare una rete gettata in mare la rete rappresenta l'Evangelo l'Evangelo della grazia la buona notizia il mare è il mondo il male rappresenta il mondo la vita in questo mondo in questo tempo in cui stiamo vivendo in questo mondo ecco in questo mare ci sono ogni sorta di pesci ecco ci siamo noi l'intera umanità la rete è l'Evangelo e i pescatori di uomini sono i ministri dell'Evangelo Gesù lo ha detto ai suoi discepoli seguitemi e io vi farò pescatori di uomini e ancora oggi è così ecco tutti coloro che seguono Gesù diventano pescatori di uomini per i cristiani sono pescatori di altri perduti alleluia da giorno in cui Gesù mandò i discepoli a predicare l'Evangelo fino ad oggi questa rete ecco si sta riempendo ogni giorno di più fino a che sarà completamente piena allora ci sarà una cernita ci sarà una selezione il verso 48 dice che quando è piena i pescatori la traggono in riva arriva e postisi a sedere e raccolgono i buoni in vasi e buttano via quello che non vale nulla Gesù usava questa similitudine e in quel tempo la gente del posto capivano bene di cosa parlasse perché probabilmente spesso avevano visto nel mar di Galilea i pescatori che raccoglievano i pesci in buoni i pesci buoni in dei vasi che poi contenevano dell'acqua e che poi li portavano al mercato per venderli mentre quelli che non erano buoni li buttavano via Gesù usa questa similitudine per comprendere per farci comprendere quello che avverrà alla fine dei tempi e non lascia equivoci infatti dirà verso 49 così avverrà alla fine dell'età presente verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di menso ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco ardente lì sarà il canto e lo stridore dei denti o carine signore Gesù si serve di questa parabola per descrivere il giudizio di dio sugli increduli su coloro che sono increduli nella parola di dio il mare rappresenta il mondo come abbiamo detto nel mare ci sono molti pesci di vario genere di ogni razza ecco rappresenta ogni genere umano di ogni nazione popolo e tribù l'evangelo ecco sta raccogliendo delle anime sparse in tutto il mondo delle anime che sono sparse ecco in tutto il pianeta noi dobbiamo sapere che il mare che è figura del mondo in cui viviamo si trova sotto condanna noi la parola di dio parla chiaro e sotto il giudizio di dio il mondo questo mondo in cui noi viviamo si trova sotto il giudizio di dio è buono che noi lo diciamo chiaramente per come lo dice la parola di dio ma dio per mezzo del sacrificio di cristo ha gettato la rete e ancora oggi questa rete è gettata per salvare quanti si lasceranno prendere si lasceranno pescare da questa rete che è l'evangelo ma ecco che cari nel signore ecco che anche coloro che saranno pescati nella rete e che si trovano in mezzo ai pesci buoni saranno anche essi esaminati ci dice la parola di dio ci sarà una selezione che dio farà tutti coloro che pur dopo aver ascoltato l'evangelo ecco hanno e vivono una vita lontani da dio e dai suoi insegnamenti si danno ai piaceri di questo mondo verranno gettati nella fornace del fuoco del fuoco ardente per come dice la parola di dio lì ci sarà il pianto e lo sfrido dei denti ci sarà una cernita ed è gesù che lo dice quindi io ci credo quindi così sarà lui è la via la verità e la vita tutti coloro che non vivono una vita ripiena del signore alla fine rimarranno delusi rimarranno delusi è buono che sappiamo queste cose è buono che noi già da adesso non siamo illusi nel pensare che ecco siamo salvati perché lo diciamo con le nostre bocchie gesù sta dicendo che non basta essere nella rete non basta appartenere a una chiesa non basta vivere in mezzo ai pesci buoni ecco vivere in mezzo ai credenti ma bisogna essere pesci buoni bisogna esserlo dobbiamo essere come a dio piace dobbiamo essere pesci buoni al palato di dio dio vuole gustare la nostra vita e la nostra vita deve avere il sapore del cielo il sapore di cristo il sapore della santificazione il sapore della sua parola per essere pesci buoni bisogna vivere nella santificazione vivono una vita santa cioè essere separati dalle contaminazioni del mondo e appartenere completamente interamente a dio alleluia carine signore dobbiamo comprendere e dobbiamo intendere che la posta in gioco è molto alta e non possiamo sottovalutare questi avvertimenti di dio la vita in questo mondo vola via in fretta tutti abbiamo un appuntamento alla quale non possiamo rimandare o evitare la domanda che mi sorge spontanea di fronte a questa riflessione è per cosa stiamo vivendo stiamo vivendo in vista di quel giorno ecco caro ascoltatore stai vivendo per dio o per il mondo per dio o per i piaceri effimeri di questo mondo il diavolo inganna con le sue lusinghe ti mostra i piaceri del mondo come qualcosa che ti appartiene che non ne puoi fare a meno ma presto tutte queste ricchezze le ricchezze di questo mondo dovrai pur lasciarle giacomo dirà ecco giacomo dirà al capitolo 4 di giacomo a versetto 13 e versetto da 13 a 15 dice ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città vi staremo un anno trafficheremo e guadagneremo e mentre non sapete quel che succederà domani che cosa infatti è la vostra vita che cos'è infatti la vostra vita siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce doveste dire invece se dio vuole saremo in vita e faremo questo quest'altro se dio vuole dice giacomo non cose noi vogliamo molti ecco si fanno degli schemi ecco molti fanno dei programmi ma se dio vuole fare questo ma giacomo dice che la vita è come un vapore che appare per un istante e poi svanisce sapete se ci pensiamo se pensiamo un po ecco magari coloro che siamo già ecco più avanti siamo più grandi magari e dei giovani possiamo ricordare ecco fin da quando eravamo piccoli bambini arrivare adesso come subito è volato via il tempo ecco ci ritroviamo oggi io mi trovo ad avere ecco i miei 39 anni e se mi guardo indietro sembra ieri che ne avevo cinque anni ecco guardate come vola via il tempo e quante persone sono andate via quante persone mie care ho visto andare via perché tutti abbiamo un appuntamento tutti dobbiamo andare via da questo mondo siamo solo di passaggio oggi sono in molti ahimè anche fra i credenti a vivere senza pensare che molto presto lasceremo questo mondo e ci sarà un giudizio gesù parla chiaro ci sarà un giudizio per tutti coloro che non hanno amato la verità della sua parola ma si sono dati alle vanità di questo mondo molti oggi ecco pensano a divertirsi a mangiare a bere a fare festa andare in vacanza spensieratamente e sono disposti anche a indebitarsi pur di godere un po di divertimento ma sono pochi oggi coloro che cercano la presenza di dio coloro che ecco considerano quello che dio ha detto nella sua parola coloro che ecco sono pochi coloro che dicono come salmista un giorno nella tua casa vale più che mille a trove il salmista diceva questo io preferisco piuttosto stare sulla soglia della tua casa che abitare nella tenda degli empi ecco ma molti invece si dilettano nella tenda dei empi e vivono nel mondo e si dilettono con quelli del mondo ecco carine signore guai a coloro che non hanno considerato il messaggio dell'evangelo il messaggio della grazia essere nella rete non significa essere salvati come dire appartenere a una chiesa frequentare una chiesa non significa essere salvati carine signore dio vuole che siamo dei pesci di qualità dio vuole che siamo dei credenti di qualità che non vivono il signore solo la domenica mattina o il pomeriggio per chi fa i punti di pomeriggio solo tre volte la settimana quando ci sono gli incontri nei locali di culto dio vuole che siamo dei cristiani autentici che ardono di passione per lui dio non vuole che siamo dei credenti che nella rete si sentono braccati che non si sentono a suo agio ma possiamo vedere che la rete ecco noi dobbiamo vivere la rete cioè l'evangelo la parola di dio come mezzo di salvezza la dobbiamo vedere in questo modo è la parola di dio l'evangelo questa rete che dio ha gettato ecco serve per le anime nostre per la salvezza delle anime nostre l'evangelo è per la tua salvezza caro ascoltatore l'evangelo è per la salvezza della tua anima o l'evangelo è per la salvezza della tua casa della tua famiglia l'evangelo è la potenza di dio dobbiamo essere grati a dio per la salvezza che abbiamo ricevuto ecco è vivere in questo mondo con un cuore grato che mostra la gratitudine nei gesti e nella vita di tutti i giorni dobbiamo vivere per questo a versetto 49 ecco e versetto 49 50 dice così avverrà la fine dell'età presente verranno gli angeli che toglieranno i malvagi di menzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco ardente lì sarà il pianto e lo sfritor dei denti cari fratelli e sorelle amici che siete in ascolto sapete molte volte sembra duro dove parlare dell'inferno eppure gesù parlò dell'inferno e come vediamo in questo testo infatti più di tutti gli altri profeti prima di lui sapete che gesù parlò più lui di tutti gli altri profeti prima di lui dell'inferno sapete che parlò dell'inferno più dell'amore ecco sapete cosa penso io in tutto questo penso che anche parla dell'inferno è un'azione di amore da parte di gesù il nostro signore infatti gesù parlò molto dell'inferno perché vuole cari nel signore che noi possiamo scampare da questa terribile condanna gesù ci mette in guardia gesù ne parlò molto spesso ed ecco e se gesù ne parlò molto spesso ecco e noi non possiamo evitare di parlarne anzi dovremmo parlare molto spesso ancora anche noi soprattutto molto di più oggi visto che ci troviamo sempre di più vicini alla resa dei conti alla fine dei tempi quando i libri saranno aperti e dio giudicherà il mondo con giustizia dio lo farà con giustizia gesù non promette una via di scampo per coloro che rifiutano oggi la sua offerta amorevole di grazia ecco oggi viviamo nella pazienza di dio ma dice la parola di dio che la pazienza di dio deve conduci al ravvedimento cari nel signore vogliamo chiarire questa sera che l'inferno non consiste solo nel vivere per sempre brutti ricordi o come qualcuno può pensare nello spegnersi per sempre nel nulla alcuni insegnano anche questa falsità che una volta che uno muore non ci sarà più nulla non è neanche come ecco molte volte mi sono ritrovata a sentire dire da qualcuno che avevo evangelizzato mentre parlavo di gesù mi sono sentito dire spesso anche con il sorriso sapete sulle labbra con il sorriso sulle labbra dicendo che volevo andare all'inferno qualcuno mi ha detto sì io voglio andare all'inferno perché lì si può peccare senza freno e può peccare senza fine senza essere fenati o ripresi dio vuole che tu sappia una cosa dio vuole che tu sappia tu che stai ascoltando questa sera dio vuole che sappia che l'inferno di cui parla la parola di dio in questo luogo non ci sarà piacere non ci sarà piacere non la fantasia dell'uomo può arrivare a pensare che all'inferno può fare quello che vuole non è così non ci sarà nessun piacere neanche piacere perverso di peccare no ma ci sarà solamente sofferenza ci sarà solamente la punizione eterna la parola di dio cerca di spiegarci come sarà ma certo carine signore naturalmente solo indicativamente perché la mente umana è limitata noi siamo limitati e non possiamo comprendere il dolore e tormento infinito ecco come non possiamo comprendere appieno la gioia la felicità infinite che avremo nel regno dei cieli l'inferno è un luogo di costante tormento cari ascoltatori miseria sofferenza un posto dove nessuno vorrebbe mai andare sapete matteo capitolo 22 a versetto 13 descrive l'inferno un luogo di tenebre dice così allora il re disse ai servitori legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori lì sarà il pianto e lo sridor dei denti un luogo di tenebre un luogo dove nessuna luce può penetrare e non si vede nulla per tutti i secoli dei secoli per l'eternità caro ascoltatore è lì che vorresti tu andare vorresti andare in un luogo dove non c'è più luce dove c'è l'oscurità i dannati non vedranno mai più la luce o nulla che sia ecco illuminata dalla luce non potranno mai vedere più nulla il tormento dell'inferno è descritto anche come un fuoco inestinguibile marco capitolo 9 a versetto 43 dice questo ecco se la tua mano ti fa cadere in peccato tagliala meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andattere nella genna del fuoco inestinguibile ecco questa parola naturalmente vuole dire che noi dobbiamo amare ecco dio più di ogni altra cosa e vuole dire che se la nostra mano ci fa peccare sarebbe anche meglio ecco entrare nel cielo senza una mano ma non andare in un luogo di tormento ecco che dice che sarà un fuoco inestinguibile nella genna dove ci sarà un fuoco inestinguibile coloro che saranno lì non avranno mai sollievo sarà un luogo dove non ci sarà ecco non ci sarà gioia ci sarà solo pianto e sgridò di denti non ci sarà pace dobbiamo sapere che la sofferenza non sarà solo per il corpo ma anche per l'anima sia l'anima che corpo non saranno annientati i dannati avranno dei corpi immortali quando ci sarà la risurrezione dei morti al momento della risurrezione i corpi dei non salvati risusciteranno e si ricongiungeranno con le anime nel tormento eterno dell'inferno capite cari nel signore capite quello che sto dicendo quello che la parola di dio ci insegna proprio come i credenti riceveranno dei colpi celestiali per godere della gioia celeste per sempre così dobbiamo essere consapevoli che no i non credenti riceveranno dei corpi per soffrire nei tormenti eterni dell'inferno è lì che vorresti andare senza che questi corpi si consumeranno mai o che saranno distrutti del tutto la parola di dio ci dice in marco a capitolo 9 a versetto 44 dice questo dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne questo sapete cosa significa dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne meditiamo la parola di dio riflettiamo su queste parole questo significa ecco cari nel signore noi sappiamo che quando un corpo muore viene sepolto avviene la decomposizione come naturalmente avviene a tutti ecco il corpo si decompone e i vermi cosa fanno attaccano il corpo finché c'è la carne e una volta che è consumata tutta la carne mangiano la carne una volta che è consumata il corpo ecco non può subire null'altro non può subire più nessuna cosa mentre i corpi risuscitati dei non credenti sapete cosa succederà non si consumeranno mai e i vermi dell'inferno dice questa parola perché questo sta dicendo questa parola dice che i vermi dell'inferno che se ne nutrono non moriranno mai capite tutto questo oh so cari nel signore che la scena non si presenta a berla ai nostri occhi so che magari all'udito di qualcuno queste parole possono sembrare dure anche a gesù lo dissero le tue parole sono dure gesù dice volete andare via anche voi ma pietro rispose a chi ce ne andremo solo tu hai parole di vita eterna queste parole possono sembrare dure ma se la parola di dio ne parla chi sono io per tacere cari nel signore chi sono io per tacere ma anzi credo che sia necessario è indispensabile che noi sappiamo in vista della nostra vita eterna queste cose per stare in guardia immaginate poi un'intera eternità nel tormento insieme ai demoni essere esseri orribili terrificanti i demoni sono terrificanti immaginate quanta paura possono creare in un uomo che senza dio quando ci sono delle persone che sono possedute e vivono nella paura nel tormento già su questa terra immaginate vivere una vita insieme a questi esseri orribili orribili e terrificanti se disgusta parlarne quanto più sarà terribile conviverci meglio parlarne adesso che non parlarne e rimanere intrappolati nell'inganno del diavolo cari nel signore voglio precisare che dio non ha progettato l'inferno per gli esseri umani ma per il diavolo e suoi angeli dice la parola di dio l'uomo sceglie di andarci di propria spontanea volontà avendo rinnegato di e la sua parola la fonte della vita si è schierato dalla parte di satana ricevendo la stessa condanna la parola di dio ci lascia a intendere anche se saranno ecco che saranno sperimentati dei gradi di sofferenza cioè di male in peggio possiamo leggere in ebrei a capitolo dieci il versetto ventotto da versetto ventotto a versetto ventinove ebrei capitolo dieci dice questo chi trasgredisce la legge di mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni di quale peggio castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di dio che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia ma ci rendiamo conti cari del signore ci rendiamo conto di quello che dice la parola di dio ecco se già nell'antico testamento ecco già si era condannati perché si trasgrediva la legge di mosè molti oggi dicono noi siamo salvati per grazia ma la parola di dio ci dice su questa parola ci dice questo ecco se questi dell'antico testamento per la parola di due o tre testimoni erano giudicati senza pietà di quale perciò castigo a vostro parere la parola di dio ci dice a vostro parere considerate voi stessi di quale peggio castigo sarà giudicato degno colui che ha calpestato come con la propria vita tu puoi calpestare il figlio di dio il sacrificio di dio di quale perciò castigo dice coloro che avranno calpestato il figlio di dio che avranno considerato profano il sangue del patto con il quale siete stati santificati e avranno disprezzato lo spirito della grazia ma ci rendiamo conto del peso di queste parole ecco carine signora abbiamo una grande responsabilità noi oggi perché siamo stati comprati con il sangue di cristo gesù ha pagato con la sua vita il figlio di dio l'onnipotente l'alfe l'omega affinché tu non vada nel luogo di tormento ma di quale peggio castigo saranno considerati coloro che avranno ecco disprezzato abbassato il prezzo il valore del sacrificio di cristo ecco carine signore ancora dice in matteo ancora per confermare questa parola matteo capitolo 11 a versetto 22 fino a versetto 23 dice questo ecco perciò io vi dichiaro dice gesù che nel giorno del giudizio dice la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra e tuo capernaum sarai forse innalzata fino al cielo no tu scenderai fino all'ades perché se in sodomo fossero state fatte le opere potenti compiute in te essa sarebbe durata fino a oggi capite cosa stava dicendo gesù gesù stava dicendo proprio questo se ecco loro sono stati condannati sodoma e gomorra ecco ecco ancora di più voi se sodoma se a sodoma fossero stati fatti fatte le opere potenti e compiute che gesù aveva fatto lì a capernaum gesù aveva fatto delle opere potenti ma loro avevano rifiutato gesù e allora dice quale peggio castigo sarà per voi ecco ma voglio ecco avviarmi verso la conclusione cari nel signore gesù conclude nel testo in cui abbiamo letto all'inizio gesù conclude con questa domanda ed è il titolo che ho dato a questa ecco predicazione a questa parola che dio a questo messaggio che dio mi ha dato oggi che ha messo nel mio cuore avete capito tutte queste cose sapete l'inizio di questa predicazione è iniziata proprio da questo versetto quando ho letto questo versetto mi ha affolgorato mi ha toccato profondamente il cuore quando gesù a versetto 51 nel testo iniziale che abbiamo letto ha detto proprio queste parole avete capito tutte queste cose essi gli risposero sì cari nel signore questa parola dopo tutte queste parabole che gesù aveva detto dopo questa parabola che gesù racconta della rete e della genna di fuoco e dell'inferno ed è tormento eterno gesù dice queste parole avete capito tutte queste cose e questa sera gesù lo dice a te lo dice a me lo dice a noi avete capito tutte queste cose ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando qui la posta in gioco è alta noi stiamo parlando della vita eterna del nostro futuro eterno non stiamo parlando di un tesoro che presto finirà come tutto il mondo ecco passerà ma stiamo parlando della vita eterna avete capito queste tutte queste cose gesù ecco questa parola vuole dire anche mettere insieme tutte le cose e cercare di comprendere quello che lui ha detto dobbiamo avere uno spirito di intendimento questa sera dobbiamo comprendere quello che gesù vuole dire essi gli risposero sì è facile dire sì con le labbra è facile dire sì signore ti voglio servire ma dobbiamo chiederci se veramente abbiamo capito che questa domanda comporta una risposta che coinvolge tutta la nostra vita è una grande responsabilità è una risposta che coinvolge tutta la nostra fede personale il nostro rapporto personale con dio i discepoli sicuramente l'avevano capito ecco perché lasciarono ogni cosa e lo seguirono ma noi siamo disposti a lasciare ogni cosa per seguire cristo il sì oggi coinvolge la nostra consacrazione il nostro servizio non possiamo dire di sì se non siamo disposti a dare tutta la nostra vita tutto il nostro tempo tutta la nostra famiglia tutta la nostra casa tutto quello che dio ci ha donato lo vogliamo riconsegnare nelle sue mani ecco caro fratello cara sorella oggi siamo chiamati a vivere per dio con passione dobbiamo sentire il fuoco dentro di noi il peso per le anime perdute questo significa dire sì abbiamo capito queste cose pensare a questo mondo che giace nelle mani del diavolo pensare a quanti sono legati dal diavolo a quanti sono ingannati da satana ecco noi dovremmo pensare avere il peso per quelle anime che saranno perdute per l'eternità la passione per cristo dobbiamo riscattare il tempo carine signore dobbiamo correre fra le braccia di gesù e io spero che questa sera attraverso questo messaggio tu possa sentire nel tuo cuore il fuoco dello spirito santo che parla alla tua vita e che ti dice basta perdere il tempo con le cose effimere di questo mondo basta perdere il tempo questa sera vogliamo fare una scelta decisiva questa sera vogliamo correre a gesù e io questa sera ti invito forse c'è qualcuno questa sera che è lì a tentennare do la mia vita a gesù non la do cosa faccio o gesù ti dice ancora in questa sera hai capito tutte queste cose l'hai capito che c'è in gioco la tua vita la tua vita eterna cosa vuoi fare vuoi andare in un posto dove non ci sarà più speranza o vuoi vivere nel cielo dove ci sarà la gioia dove dice la parola di dio ogni lacrima sarà asciugata non ci sarà più malattia non ci sarà più morte non ci sarà più sofferenza dove vuoi andare cara sorella caro fratello dove vogliamo andare caro amico che se ne ascolto questa sera tu puoi prendere una vera decisione questa sera tu puoi dire basta al peccato basta ai piaceri della carne io voglio vivere per cristo voglio vivere per colui che mi aprirà le porte del cielo alleluia gloria a gesù e io voglio invitarti questa sera ecco ad alzare la tua mano nel posto dove ti trovi non ti posso vedere ma c'è dio che ti vede e se in questo momento non lo fare se non hai capito ma se hai capito questa sera se gesù ha parlato al tuo cuore alza la tua mano come insegno di arresa alza la tua mano a dio questa sera e di signore o ecco io mi voglio arrendere nelle tue mani voglio pregare per coloro che alzeranno la sua mano fallo con tutto il cuore con sincerità di cuore ecco chiudi i tuoi occhi in questo momento non pensare a coloro che ti stanno intorno o ecco chiudi i tuoi occhi in questo momento questo momento speciale è un momento che può essere la svolta decisiva della tua vita ecco chiudi i tuoi occhi in questo momento dove ti trovi voglio pregare per te oh ecco il nostro padre celeste alleluia padre santo signore dio onnipotente ecco signore ci vogliamo arrendere nelle tue mani signore padre tu hai gettato la rete l'evangelo l'evangelo della grazia stiamo vivendo nel tempo della grazia ma presto questa rete sarà piena tu hai stabilito un giorno signore dove giudicherà i vivi e i morti signore padre o ecco noi riconosciamo signore che non ti abbiamo dato tutta la nostra vita riconosciamo signore che le mani ecco la chiesa oggi ha bisogno signore e di riscoprire signore la potenza dell'evangelo di vivere per l'evangelo ecco di essere uomini e donne signore che vivono ecco per te e solo per te signore o padre tu ci hai parlato ancora in questa sera e noi signore se non abbiamo ancora capito ecco ti preghiamo di scuotere i nostri cuori ancora signore con la tua potenza con la tua presenza ti preghiamo signore ecco sciogli i legami spezza le catene quanti ancora signore sono lì per scegliere cosa fare signore io ti prego quanti sono legati da vizi quanti sono legati signore ecco dalle passioni ingannatrici di questo mondo io ti prego padre nel nome di gesù ti prego per coloro che hanno alzato la loro mano di spezzare ogni legame di bruciare signore e con il piano di abbonico ecco padre nel nome potente di gesù io credo che tu stai operando in questo momento per coloro che hanno fede e coloro che ecco signore di puro cuore sia stanno stanno accostando a te signore padre nel nome potente di gesù io dichiaro liberazione ora nel nome di gesù il padre dio di potente ecco signore in questo momento io credo che tu stai intervenendo stai operando stai liberando stai spezzando i legami nel nome di gesù il benedetto in eterno amen gloria gesù grazie a tutti